Quattacento, organici già risicati e ora le ferie. Sarà un'estate dura dal punto di vista degli organici per gli ospedali abruzzesi? Lo chiediamo al segretario regionale di Enao Assomed, Alessandro Grimaldi. Con uno simoro si potrebbe dire un'estate da brivido, anche se l'estate meteorologicamente si prevede calda. Per noi sarà un'estate difficile, perché con i pensionamenti non solo legati a Codacento rischiamo di dover ridurre di molto i servizi. In alcuni casi potrebbe esserci la difficoltà da assicurarli. Quindi si prospetta una situazione difficile e la speranza è che la politica possa intervenire su questi problemi, soprattutto con nuove assunzioni di personale. Verosimilmente quando potrebbero scattare i concorsi? Subito, dovrebbero scattare immediatamente. Anzi, il nostro appello è a fare presto. Però per fare i concorsi ci sono delle procedure che possono risultare anche lunghe. Quindi bisogna snellire le procedure. In primis la Regione deve snellire le procedure. Faccio un esempio, se io devo nominare un membro regionale di una Commissione lo devo fare rapidamente, se lo devo sostituire lo devo fare rapidamente, altrimenti le lungaggini rischiano di ripercuotersi negativamente, io direi sulla salute dei cittadini, perché poi con le lungaggini che abbiamo il rischio è che poi tutto ciò si ripercuota negativamente sulla organizzazione e sulla funzionalità dei servizi. In queste settimane si è acceso a un dibattito sulla nomina dei nuovi vertici delle Asla Bruzzesi, legate in qualche modo allo Speu System dopo le ultime regionali. Qual è la posizione in merito del vostro sindacato? Ma è un dibattito che ci appassiona relativamente poco, cioè nel senso che noi vorremmo che ci fosse gente veramente qualificata e quindi il vero marchio di fabbrica è la svolta e io rivolgo un appello al Governatore Marsilio di darci dei manager, dei veri manager, cioè delle persone che sappiano di cosa si sta parlando, di cosa ci si deve occupare. Siccome i problemi della sanità abruzzese sono tanti, io credo che ci vogliano persone altamente qualificate. C'è un problema a monte che forse l'Abruzzo non è molto ambito, pure perché bisogna dire che rispetto a altre realtà i nostri direttori generali, i direttori sanitari sono poco pagati, quindi rispetto alle responsabilità ci sono delle realtà che sicuramente sono meglio remunerati.